Cadean Live ha chiesto a me come ho fatto questo effetto di traccia di motion con zoom. Guardate, l'immagine è aumentata e diminuita in size basato nella posizione camera. Beh, questo è molto semplice e questo è quello che ho fatto. Questo tempo ho usato per tracciare un obiettivo che veniva in camera. Questa è la parte della tracciata. Copio la tracciata. Replace l'obiettivo per tracciare. Adesso aggiungo il clip con la tracciata. Posizione e zoom. Usa il zoom corretto. Per esempio questo. E bisogna manualmente selezione il zoom corretto. Converso e zoom. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. After that I placed the crop scale and tile to the clip and manually fix all the frame or the important keyframes. For example, first I have to move to a little bit to on the X axis. Vertical, ok. Just move again and look in frames. It's not easy to do for every keyframe but this is a particular clip with a lot of zoom. Ok. 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 This is what I hope to make this special motion tracking effect. Look at this. It's zooming with the main tractor. See ya. Ok. 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 Ok.